Presidente Pippo Callipo, la quinta finale per la Tornocallipo-Calabria-Vivo Valenza nell'arco di 13 anni, la finale di Coppa Italia, un risultato incredibile, ora c'è da fare l'ultimo passo. Questa partita stasera è stata veramente molto bella, anche se ci ha fatto tremare un po', però il pubblico forse la vive meglio questo tipo di partita, poi abbiamo avuto un quarto set che non ha avuto storia, adesso si diceva con i ragazzi tutto a Milano, andiamo a Milano e vediamo, come diceva il mister Pocanzi ancora non abbiamo fatto niente, stiamo costruendo, adesso c'era la partita difficile a Milano contro il Sora e lì vedremo un pochino se possiamo, io ho fatto quello che ho potuto, abbiamo avuto quell'infortunio che purtroppo Antonio non può giocare per quest'anno, non credo perché ha avuto un infortunio serio al ginocchio e ho rinforzato la squadra. Abbiamo un cubano che è molto... Diciamolo questo nome Presidente ormai. Sì, 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 Salvador Hidalgo. Hidalgo, Hidalgo, sì, con l'H davanti, Salvador Hidalgo, lo diciamo, ancora non è confermato perché per una settimana è in prova qui da noi, e sabato sera o domenica dovremo sciogliere, però sabato parte la squadra quindi dovremo sciogliere questa cosa, è integro, abbiamo fatto tutti gli accertamenti fisici possibili e medici, quindi adesso sta all'allenatore a dire sì, no, che rinforzerà la squadra. Ovviamente se è sì, lui sarà domenica, adesso non ce la facciamo a tesserarlo ovviamente, ma diciamo per la partita a Milano sarà in campo, ci darà una mano. Bello vincere in questo modo e in maniera sofferta davanti a un pubblico numeroso che stasera si è divertito a vedere giocare ai suoi ragazzi. Stasera veramente c'era un pubblico che io non mi aspettavo, essendo giovedì alle 20.30, domani è giornata ancora lavorativa, non mi aspettavo questo pubblico. Si vede che il pubblico sta seguendo, poi quando si vince il pubblico è più contento ovviamente segue di più. Speriamo adesso di dare questa soddisfazione e di portare un altro gagliardetto di Coppa Italia qua. Vediamo un pochino, grazie.